Siamo con Dante Barone, responsabile dell'area di Milano Ovest della banca BPM, anche quest'anno presente ovviamente alla Coppa Bernocchi. Ormai è un legame assolutamente indissolubile il vostro? Assolutamente sì, 46 anni sono veramente tanti. Abbiamo cominciato con la banca di Legnano, poi con la BPM e adesso Banco BPM. Siamo una banca grande, ormai è il terzo gruppo bancario, ci teniamo molto a questo territorio e ci teniamo molto soprattutto alla Coppa Bernocchi. Un evento che ormai è diventato di livello internazionale, il Presidente della Lignanese, Roveda, ha fatto vedere dei numeri incredibili, bellissimi. Dal mio punto di vista è un evento che continueremo a seguire perché valorizza il territorio, il territorio dove noi lavoriamo e che noi seguiamo tantissimo. In un momento così difficile come quello che sta vivendo l'economia italiana e mondiale, cosa significa investire in un evento sportivo? Significa credere a quello che stanno facendo queste persone, a valorizzare un lavoro fatto ormai da anni e che è giusto sostenere nei momenti belli ma anche nei momenti difficili come questi e soprattutto stiamo sostenendo un'attività che è quella del mondo del ciclismo e della bicicletta che come tutti sapete ormai è il futuro del valore della vita che facciamo tutti i giorni. In questa zona il Sindaco sta facendo delle grandi iniziative e il mondo della bicicletta è un mondo che noi, come tutto quello che è lo sport, cerchiamo di sostenere perché è uno stile di vita sano e a cui noi crediamo molto. Grazie e complimenti sempre per la vostra collaborazione. Grazie a voi.